calmi giocatevela tranquilli siete due contro uno dietro davanti ecco lì c'è una buona posizione questa lì dietro ha fatto di aver la maschera sta sempre lì dietro lui sta sempre lì sta venendo verso te guarda avanti guarda avanti io farò giocare con la maschera alza lo sguardo cosa stai facendo ma che stai facendo deve mettere l'altra maschera ho appena visto la peggiore giocata della mia vita in game ma cosa c'entra che sei due maschera manzi cosa stai l'aspettare che si consuma la massa cioè non ho capito anche che ne avessi 8 di matto fa niente fa niente bravi ragazzi dai ne faccio ancora uno ok c'è madonna io stacco invece no wall l'ultima ah c'è wall l'ultima wall dai dai ben partita quando hai visto le prime partite che avevi con me che non sapevi ancora giocare pensavi che era un po' lo player poi hai detto chi è sto scherzo no ho sempre pensato fossi scherzo Ale scherzo Ale comunque ancora adesso non so giocare adesso che sto giocando con quelli la forte ho capito che ancora adesso io non so non so giocare quindi eh sì ma penso che tutti noi siamo passando a scarti poi non per tirar ma siamo nel senso in generale penso che rispetto a un portiere c'è una differenza c'è enorme minchia ma anche rispetto a uno bravo che pare c'è a racchio i due o tre non so come dire sì sì la differenza c'è però giochiamo ci divertiamo sicuro quello che hai fatto adesso non l'avevo ancora visto eh la mi è stupito anche quello più scarso c'è la possibilità secondo me di migliorare però per esempio io faccio sempre le solite cagate quindi muoio un sacco di volte e c'ho sempre il kd che è un botto basso